Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità domenica 2 giugno, le celebrazioni per la festa della Repubblica nell'area tra Piazza Venezia e i fori imperiali, dalle prime ore del mattino e sino alle 14 circa, previsti diviti di sosta e limitazioni alla circolazione. Domenica mattina sarà chiusa la fermata metro di Colosseo e 33 linee tra bus e tram saranno modificate.